Ciao a tutti di Raffaele ed eccomi pronto per un'altra serata al cinema stasera vado a vedere Godzilla 2 The King of the Monster vabbè un film ovviamente nerdissimo quindi non posso perderlo sicuramente non sarà un film da premio Oscar però è un film per coloro a cui piacciono questi film questi film che appunto sono del Monsters Universe abbiamo proprio iniziato questo nuovo universo con Godzilla di Edwards di 5 anni fa ormai e poi abbiamo visto anche Kong School Island che comunque sono stati due film che sono stati gradevoli soprattutto per chi ama il genere distruzione totale questo è un film diciamo che mi aspetto come film preparatorio a quello che dovrebbe uscire l'anno prossimo e appunto sarà Godzilla contro King Kong che sarà un'apoteosi della distruzione della distruzione fra i mostri quindi diciamo cosa mi aspetto Godzilla appunto è ormai un mito nella storia del cinema soprattutto del cinema di fantascienza comunque di un certo tipo di cinema c'è stato io ricordo comunque di aver gradito il Godzilla del 98 di Emeridge anche se poi non è realmente Godzilla il vero Godzilla l'abbiamo rivisto in quello di 5 anni fa appunto di Edwards anche se devo dire anche aveva parecchi difetti non ne sono stato entusiasta però sapete dopo 60 anni diciamo si celebravano appunto i 60 anni della nascita di Godzilla non lo vedevamo al cinema da tantissimo tempo perché appunto anche comunque considerando quello di Emeridge erano passati più di 15 anni e quindi comunque è stato gradito l'arrivo di questo nuovo capitolo quello del 2014 di Edwards adesso dopo 5 anni abbiamo il seguito che spero appunto dia la spinta definitiva al Monsters Universe in cui vedremo tanti mostri tanti kaiju diciamo protagonisti ovviamente al grande pubblico quelli più noti sono appunto solo Godzilla e King Kong però ce ne sono tanti magari riusciremo a vedere in futuro anche un film con Gamera o con altri altri kaiju di questo tipo perciò cosa mi aspetto appunto mi aspetto questa nuova evoluzione del Monsters Universe in cui ci sarà tanta distruzione sicuramente perciò adesso vado al cinema spero di passare due ore diciamo divertenti e piacevoli e di appunto vedere Godzilla nella sua menza grandezza per il resto poi vediamo sperando appunto di far salire l'hype per Godzilla contro Kong che ci sarà l'anno prossimo vi lascio con il trailer e ci vediamo dopo per la post recensione a dopo ciao quello a cui assistiamo qui è il ritorno dei titani ma quanti ce ne sono 17 è forse di più è un bel casino vero motra rodan ghidora oh mamma si muovono come un branco vanno a caccia rispondono tutti direttamente a un capo se fermiamo se fermiamo ghidora li fermiamo tutti esiste un'altra creatura che può avere una chance contro di lui mio dio Godzilla il nostro pianeta morirà e anche noi se non lasciamo che Godzilla sia libero oh sì certo invitiamolo a bere una birra no questa volta ci uniamo alla lotta corri questo mondo è di Godzilla noi ci viviamo soltanto e come ciao a tutti eccomi di ritorno dal cinema come ho detto prima sono andato a vedere Godzilla 2 King of the Monster allora sicuramente come avete visto dal trailer è un film in cui i mostri ce ne sono a non finire si diciamo come come speravo per una una futura diciamo uno slancio del definitivo del Monsters Universe in questo in questo film come il trailer preannuncia ce ne sono di mostri ce ne sono e quindi spero che questo porti a tanti film seguenti con questi con i mostri come Motra come Ghidorah che vengono appunto citati nel nel trailer non vi preoccupate non farò spoiler quindi non andrò a dare dettagli sulla trama comunque il trailer è abbastanza abbastanza esplicativo sul fatto che comunque in questo film non ci saranno solo i mostri non ci sarà solo Godzilla e il cattivo di turno ma di mostri ce ne sono in abbondanza è proprio uno scontro fra titani devo dire quando si va a giudicare un film del genere ovviamente non si va a non si fa le valutazioni non si fanno le valutazioni che facciamo per un film d'autore ma si va a giudicare quel tipo di film quel genere di film di quella particolare tipologia come è un film su Godzilla quindi allora come giudizio sicuramente un film devastazione totale devastazione come deve essere un film di Godzilla quindi sicuramente questa questa promessa che attendevo è stata sicuramente rispettata devo dire rispetto al film precedente quello di cinque anni fa di Edwards sicuramente un'altra cosa in più positiva che è apprezzabile anche se comunque è relativa al fattore dell'attore umano diciamo il protagonista Kyle Chandler che Kyle Chandler che comunque è un bravo attore a me piace l'ho seguito con piacere nella serie tv ultime dal cielo quindi se ricordate bene nel precedente c'era Aaron Taylor Johnson che personalmente in quel film l'ho trovato abbastanza inespressivo cioè era più espressivo Godzilla che lui quindi diciamo questo è quanto il film si ricollega immediatamente ai fatti del primo film per poi portare avanti questa volta la in maniera diciamo molto esplicita l'organizzazione Monarch quindi andremo a vedere proprio questa organizzazione che tratta i mostri i mostri che sono sparsi nel mondo e che avevamo visto introdotta nella parte finale del di Kong School Island quindi diciamo quella premessa lì che abbiamo atteso a fine dei titoli di coda lo vediamo poi realizzata e sviluppata in questo film questo è un film sicuramente che fa alzare l'asticella come qualcuno l'ha definito nel Monsters Universe adesso il Monsters Universe secondo me è completamente avviato e quindi si potrà sviluppare in maniera molto più ampia il film diciamo poi alla fine preannuncia con in vari modi il prossimo film dell'anno prossimo del 2020 in cui ci sarà Godzilla contro Kong il titolo allora credo sarà appunto Godzilla vs Kong e quindi ci sarà sicuramente molto molta altra devastazione in questo in questo da questo punto di vista una cosa che però devo dire non mi è piaciuta tanto è il fatto che in questo film c'è troppo ci sono troppi umani detto proprio diciamo in maniera in parole povere cioè la parte narrativa delle persone degli uomini è diciamo eccessiva rispetto a quello che dovrebbe essere invece lo spazio dedicato ai mostri per esempio una cosa che ho notato io ci sono i primi 40 minuti di film che dobbiamo attendere prima di vedere Godzilla cioè prima di 40 minuti Godzilla non compare assolutamente e questo diciamo è una cosa che io non non mi aspetto da un film di questo tipo da un film appunto di di mostri e di distruzione il fattore umano è una diciamo componente diciamo marginale deve essere una componente marginale i protagonisti devono essere i mostri e in questo caso il protagonista deve essere Godzilla Godzilla diciamo spesso non è il protagonista spesso c'è troppa troppa narrazione umana che diciamo secondo me va un po' a inficiare questo questo aspetto per il resto secondo me veramente ben fatti gli effetti speciali i mostri si vedono sono diciamo ben ben realizzati e ricordano proprio i mostri che abbiamo visto in in tanti film negli anni ormai che furono perché comunque non si vedevano da tantissimi anni anche le battaglie vengono realizzate veramente bene nonostante la totale devastazione comunque si riesce ad apprezzare pienamente la battaglia anche se anche in quella spesso gli uomini sono eccessivamente presenti a mio avviso comunque sicuramente è un film è un film che piacerà agli appassionati e che chi apprezza anche particolarmente i film catastrofici può andare a vedere con tutta con tutta sicurezza con tutta la garanzia di vedere un film a cui diciamo che piacerà quindi non voglio aggiungere molto altro perché non vorrei rovinarvi il film per chi lo deve andare ancora a vedere però devo dire comunque è un film sicuramente nettamente meglio del precedente a mio avviso anche se edward è un bravissimo regista però in questo caso secondo me è aiutato molto dalla trama e dalla presenza degli altri mostri e anche da un cast diciamo un po' più non dico capace ma un po' più in gamba per gli appassionati di fantascienza c'è anche fra gli attrici fra le protagoniste c'è anche undici la ragazzina di Stranger Things che diciamo qui vediamo adolescente ormai detto questo non mi resta che dare il mio giudizio che in questo caso per questo tipo di film sicuramente tre stelline e mezza o le guadagna tutte e come al solito se siete d'accordo se non siete d'accordo lasciate pure un commento qui in basso se volete seguirmi sul mio canale Instagram trovate il link sempre nella descrizione se vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un like fate quello che volete noi intanto ci vediamo alla prossima recensione ciao a tutti e alla prossima